Il posto fisso alla maniera di Checco Zalone in Covado pare una cosa difficile da realizzare se il concorso che viene bandito mira a selezionare bocciati. Il deputato Demluciano D'Alfonso passa al setaccio un bando di selezione da dirigente tecnico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato indetto dal comune di Pescara. Un concorso che arriva all'orale che poi genera tutti i bocciati sulla base di domande oggettivamente impegnative che hanno impegnato molto la commissione autorevolissima mi fa dire che il concorso è stato più concepito per bocciare che per determinare l'individuazione coerente dei vincitori. Sono partiti in 57 per la prova scritta e all'orale sono arrivati solo in 6 ma non è passato nessuno. C'è da dire che la commissione esaminatrice presieduta dal consigliere della Corte dei Conti Maria Concetta Carlotti era di tutto rispetto. Io penso che una domanda del tipo la profondità del lago Leonessa trovi tutti impreparati da Cassese a Sgarbi. Forse solo un duccio poteva riuscire a rispondere a questa domanda ma per l'effervescenza della sua capacità autoironica, ironica, irriverente. Ma non credo che un concorso si possa costruire sulla profondità del lago Leonessa. Tra i bocciati un dirigente tecnico del settore lavori pubblici del comune che sperava di raggiungere la stabilizzazione. È scelto fiduciariamente, partecipa al concorso comparativo selettivo, viene bocciato, resta in carica. Adesso la condotta di questa genuina figura nei confronti della giunta comunale, della commissione, quale sarà? Quale sarà la reciprocità collaborativa? Un primo bando era stato pubblicato nel 2020 ma poi slittato tutto. Ora l'auspicio è quello di riprogrammare la prova ma facendo tesoro del concorso appena passato. Suggerisco al comune di Pescara nel nuovo concorso di includere come selezionatore, come giudicante, l'attuale direttore dei lavori pubblici del comune di Pescara e di non ripetere l'errore che il componente aggiuntivo esperto in materia linguistica faccia parte dei lavori selettivi dopo essere stato individuato con atto tipico e non il contrario perché altrimenti si imbarazza anche il docente di lingua inglese.